Vertice sull'ordine e la sicurezza pubblica a Foggia dopo l'omicidio avvenuto qualche giorno va a Sansevero di una coppia di coniugi. Al tavolo anche i vertici provinciali di Carabinieri fuori d'eliminanza e polizia insieme al sindaco di Sansevero Miglio. Il prefetto Tirone ha messo in evidenza che è una situazione certamente non più procrastinabile. Al tavolo c'era anche un imprenditore di Ascoli Satriano che è stato oggetto di un attentato. Lo stesso imprenditore dice prima avevamo paura e oggi non l'abbiamo ancora di più ma non abbasseremo la guardia. Questo è un territorio bellissimo ma martoriato. Dunque per il prefetto Tirone tutta la provincia di Foggia è in mano alla criminalità organizzata e tra l'altro bisogna mettere tolleranza a zero e questo non deve più sopportare questo declino.